Benvenuti ragazzi a questa breve lezione sulla storia del pensiero economico. Toccheremo con queste breve slide soltanto alcuni dei maggiori pensatori per quanto riguarda le teorie economiche, poiché il tempo ci permette soltanto di fare una brevissima lezione. Allora, abbiamo detto che l'economia è una scienza nuova dove gli economisti si definiscono tali soltanto molto tardi, siamo nella prima e seconda metà del Novecento. Le primissime teorie economiche, vedete siamo intorno al 1700, erano piuttosto tentativi di spiegazione di quelle che erano le osservazioni dei sistemi economici o meglio di quelli che erano i rapporti agronomici tra gli Stati europei e prevalentemente le colonie delle Americhe e venivano fatte per lo più da pensatori, da filosofi, matematici, quindi non si chiamavano proprio economisti. La primissima teoria è quella del mercantilismo, siamo infatti intorno al 1700, Colbert e Moon sono dei pensatori francesi i quali osservano il sistema economico francese e vedono proprio questo ed affermano soprattutto che la colonizzazione ormai piena con le Americhe permette l'affermazione di un sistema economico aperto. Cioè, cosa vuol dire? Un sistema dove lo Stato è molto attivo, perché c'è questo scambio continuo soprattutto di ricchezze con le colonie, quindi non solo spezie ma anche oro, argento, pietre preziosi, pietre preziosi che permette anche il pareggio della bilancia commerciale, cioè le entrate dello Stato sono sempre inattivo. Questo afflusso continuo che arriva dalle colonie però viene reinvestito in madre matria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che vengono create nuove industrie, quindi l'aumento dei prodotti e soprattutto quindi l'aumento delle esportazioni. Questa teoria è quindi una teoria che, diciamo, in qualche modo vuole favorire una sorta di benessere e crescita, perché vede l'apertura dello Stato nei commerci e nelle esportazioni intesa come un ritorno di ricchezza. Sempre intorno al 1700, la prima metà dell'Ottocento, grazie al pensatore francese Quesnay, si affermano le teorie fisiocratiche. Fisiocrazia, physios vuol dire natura. Cioè, cosa dicevano questi pensatori? Che lo Stato non doveva assolutamente intervenire nel sistema economico, poiché ci doveva essere una libera concorrenza tra tutti i mercati e tra tutti gli imprenditori e ognuno doveva decidere autonomamente in economia. Per cui l'unica attività che poteva eventualmente produrre una sovrapproduzione, cioè un eccesso di prodotti, era l'agricoltura. Quindi ecco perché la teoria della natura. Però i fisiocratici insistono sul fatto che lo Stato non deve intervenire in economia, interviene solo nel settore agricolo perché appunto la natura non essendo gestibile può produrre, può avere un eccesso di prodotti e quindi per questo lo Stato deve intervenire. Alla fine del Settecento, vedete, si afferma la teoria dell'isberismo inglese con la scuola classica guidata da Adam Smith. Allora, siamo alla fine del Settecento, quindi siamo in piena prima rivoluzione industriale per cui le imprese, le industrie hanno ormai adottato la macchina a vapore per cui Smith osserva quello che è l'aumento della produzione, soprattutto in Inghilterra e analizza l'iniziativa economica e il sistema economico. E allora cosa dice? Dice che lo Stato anche qui non deve assolutamente intervenire perché ogni individuo deve essere libero di realizzare le sue iniziative in campo economico e cosa vorrà dire? Vorrà dire che se un'impresa decide di aumentare la produzione da 10 a 100 in una settimana di produzione quei 90 prodotti che ci sono in più troveranno sempre quella offerta di 90 pezzi in più la domanda di 90 sul mercato. È un mercato quindi che va all'equilibrio da solo cioè un mercato dove lo Stato non interviene e di conseguenza la domanda, l'offerta, troverà sempre la domanda. Contemporaneamente a Smith anche Sey è un altro pensatore nello stesso periodo storico afferma la teoria, la legge degli sbocchi o teoria di Sey, legge di Sey cioè se appunto come dicevamo la produzione da 90 passa a 1000 ci sarà sempre, dice Sey, un aumento del reddito quindi vuol dire che quei prodotti in più che vengono messi sul mercato quell'aumento di offerta Sey dice no, automaticamente ci sarà un aumento del reddito e di conseguenza ci sarà sempre un aumento di consumi. Vedete, questa è sempre un'idea economica dove il mercato va all'equilibrio da solo. Alla fine dell'Ottocento viene poi pubblicato quello che voi conoscete con il nome di Il Capitale l'opera di Karl Marx Marx era appunto un filosofo non era assolutamente un economista perché noi lo inseriamo nelle teorie economiche? Perché il suo pensiero del Capitale verrà poi preso dopo la rivoluzione del 1917 in Russia e darà luogo a quello che voi conoscete come sistema comunista o sistema socialista Marx dice una cosa dice che l'imprenditore realizza quello che si chiama plus valore cioè quella parte di profitto in più che ottiene quando quel bene viene venduto sul mercato che non viene restituito sotto forma di salario al lavoratore ma è il suo guadagno ed è un plus valore, un profitto allora Marx dice lo Stato non deve più permettere la proprietà privata ma deve essere lui che gestisce tutto quindi gestisce le imprese cosa produrre, quanto produrre e per chi produrre ma gestisce anche la quantità di salario che deve essere data a ogni singolo individuo ed è questo il sistema comunista che voi conoscete dal punto di vista storico e lo fate poi anche in diritto vedete che poi questi principi saranno quelli su cui si reggerà l'Unione Sovedica per moltissimi anni cosa accadde poi, perché questo sistema collassò perché alla fine tra gli anni 80 e gli anni 90 le industrie si erano concentrate in tutta l'est Europa esclusivamente sulla produzione di industrie pesanti quindi metallurgia e armi e di conseguenza invece i bisogni delle famiglie erano cambiati quindi la domanda era diventata diversa e il sistema crollò oltre al fatto che poi per tanti anni insieme alla parte economica nei sistemi comunisti erano state tutte le libertà tutti i diritti fondamentali vedete, quindi senza classi sociali poi mano a mano c'era stata anche la meccanizzazione eccetera, questo lo avete visto anche dal punto di vista storico ma cosa succede intanto in Europa? nel 1929 abbiamo il crollo della borsa di Wall Street cioè cosa era successo? grazie all'invenzione della catena di montaggio da parte di Henry Ford le industrie improvvisamente si erano trovate a triplicare la produzione ma a differenza di quello che era stato detto anche da sei e dai pensatori liberisti quella sovrapproduzione cioè quel tot di beni prodotti in più non aveva trovato assolutamente una domanda corrispondente anzi il sistema era collassato era crollato su se stesso le imprese avevano cominciato a licenziare i lavoratori perché avevano eccesso di magazzino i lavoratori rimasti senza reddito non domandavano più i beni e di conseguenza il sistema era crollato e allora cosa succede? che John Maynard Keynes che è il nostro pensatore fondamentale perché è il teorico del sistema economia mista che è quello più diffuso al mondo cosa dice? dice prima di tutto il sistema economico non va all'equilibrio da solo quindi non è vero che se c'è un aumento dell'offerta automaticamente ci sarà un aumento della domanda e neanche un aumento del reddito lo Stato quando si accorge quando nota, quando osserva che c'è un eccesso di domanda o un eccesso di offerta deve intervenire e come deve intervenire? se c'è un eccesso di offerta e quindi le imprese tendono a licenziare i lavoratori è lo Stato che si sostituisce in qualche modo alle imprese e crea forza lavoro come? investendo pubblicamente ed è quello che poi fece il presidente Roosevelt dopo la crisi del 29 con il famoso New Deal cos'era il New Deal? la nuova rinascita creare strade, creare ponti, creare ferrovie quindi dare lavoro creare l'occupazione il reddito, la domanda dei beni le imprese riprendono a produrre i beni e quindi si esce fuori da questo disequilibrio come viene chiamato appunto in economia che è stato causato dalla sovrapproduzione questo è poi il sistema maggiormente diffuso al mondo cosa fa lo Stato? da una parte interviene e da una parte, vedete a proposito del benessere investe al suo interno creando le strutture per i suoi per le famiglie per i suoi cittadini per le famiglie quindi può fare una politica di bilancio espansivo vedete incrementando la spesa della pubblica quindi vuol dire per esempio costruendo più strade più ponti, più scuole eccetera oppure di bilancio restrittiva quindi ridurre la spesa pubblica quindi per esempio non finanziando le scuole non finanziando gli ospedali e soltanto aumentando l'imposizione fiscale e cosa succede? se aumenta l'imposizione fiscale vuol dire che le famiglie avranno meno reddito di conseguenza domandano meno beni vedete è di nuovo il cerchio di prima e il sistema tende di nuovo a uscire fuori da quell'equilibrio quindi è come una catena di una bicicletta che si allarga si allarga e quindi va fuori dalle due ruote su cui gira se invece lo Stato investe va bene le famiglie hanno reddito quindi domandano i beni c'è un aumento vedete dell'occupazione c'è un aumento della produzione ma ci sarà anche un aumento della spesa pubblica perché cosa vorrà dire? vorrà dire che lo Stato sta facendo costruire più strade più ponti più ospedali più ferrovie eccetera eccetera questo è ancora il sistema economico la teoria economica più diffusa negli ultimi anni si è anche affermato il sistema a economia circolare che è quello che i vostri libri portano cioè dove si dice dall'inizio della produzione fino alla fine tutto deve essere riutilizzato quindi l'impresa deve produrre beni riciclabili riutilizzabili comprare macchinari per riciclare e riutilizzare noi dobbiamo acquistare beni da riciclare e riutilizzare e questo cosa comporterà? la diminuzione della spesa pubblica per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e anche il riutilizzo da parte delle imprese questo è una delle ultimissime teorie economiche poco diffusa si fa tanta fatica perché lo vedete anche voi no? quante pubblicità si fanno per recuperare e riutilizzare ma si fa poca fatica perché soprattutto le imprese non investono nel riciclo dei prodotti è stato un brevissimo escursus perché a volte i vostri libri mettono anche altri teorici Malthus, Riccardo e altri però questo vi serve nel complessivo per capire da dove vengono fuori le principali teorie economiche che vengono riportate sui vostri libri di testo grazie per l'attenzione vi aspetto a un'altra lezione a un'altra lezione grazie a tutti